siamo live ciao a tutti amici della rete ciao lorenzo lorenzo è un nostro tipo ospite d'onore mio ospite d'onore tanto questo è il mio salottino digitale lorenzo io non ho mai saputo tipo come nominare cioè nel senso so che alcune persone ti chiamano lorenz tipo e leggono tipo il tuo acronimo come lorenz e io l'ho sempre pronunciato tipo come lo pronuncierebbe mio nonno tipo lrn z non so ormai tipo è andata così per cui nel senso per me sei lrn z però è una cosa che tengo ovviamente sempre per me non mi riferisco mai a te in questa maniera tipo mi riferisco tipo quando parlo con gli altri parlo sempre di lorenzo ceccotti volevo un attimo tipo sapere un appunto come approcciarmi tipo come di solito succede a ragione tuo nonno e si dice lrn z anche perché se avessi voluto chiamarmi lorenz avrei scritto lorenz invece ho scritto lrn z perfetto piacere sapere che c'è qualcuno che legge effettivamente quello che c'è scritto mi fa piacere senti e partiamo subito a cannone con le domande e la prima è quella che praticamente faccio praticamente a tutti gli ospiti quindi mi piace per rompere il ghiaccio per conoscersi anche perché io e te appunto ci conosciamo soltanto per via internetiana e mi mi farebbe piacere sapere qual è stato tipo diciamo il tuo percorso ora non voglio sapere tipo nel dettaglio tipo vita morte miracoli perché da se me li vuoi raccontare sono anche ben felicissimo però di ascoltarli però mi interessa sapere se ci sono stati degli incontri particolari tipo qualcosa che ti ha folgorato da ragazza che ti ha fatto prendere una strada piuttosto che un'altra io guardando a ritroso tipo sono riuscito a distanza di diversi anni tipo a capire tipo cosa ad un certo punto mi ha influenzato e mi chiedo spesso tipo se questa tipologia di guardare in prospettiva il proprio percorso è un qualcosa che fanno anche gli altri e sono curioso di saperlo se lo fanno anche gli altri e quindi volevo capire una prima se non so se era mai capitato tipo di fare questo ragionamento e magari di individuare quelli che in una certa maniera sono stati magari dei punti di svolta nel tuo percorso dunque se la mia dunque francamente sarei un pazzo a non considerare il fatto che ci siano state le persone importanti nella mia vita perché la mia vita è costellata io sono un miracolato da questo punto di vista perché la mia vita è costellata di persone che mi hanno cambiato la vita ok che mi hanno formato in buona sostanza che sono una specie di così di strana particella in balia degli interventi di persone meravigliose che mi hanno arricchito e mi hanno dato opportunità mi hanno dato un confronto no e anche un semplicemente un un socio ok magari per svolgere cose più grandi di me quindi voglio dire francamente sì la mia vita è costellata di persone che sono state fondamentali non è un caso che tutto il mio percorso è punteggiato anche poi da esperienze di collettivi di varia natura a partire da quando ero ragazzino proprio fra i 13 14 anni ho fondato i primi gruppi per cercare di fare dei videogiochi per computer e ti sembrerà una roba come dire un po' lontana come dire da quello che ci interessa oggi anche se in verità è lì che ho sentito usare per la prima volta che è il termine designer ok quindi francamente il mio rapporto col design nonostante sia figlio di un architetto che si è occupato anche di design e design di prodotto proprio che è quello diciamo che viene un po' generalmente no è un po' una la parte per il tutto ok viene combinato il design sbagliando ovviamente perché noi abbiamo un rapporto proprio la parola design che è un po' alterato e non riusciamo a tradurlo tipo per bene diciamo progettazione non si può dire in italia sembra un errore dirlo ma diciamo tecnicamente parlando quello vuol dire e quindi sì scusa mi ero perso parlavo appunto del mio primo contatto col design è avvenuto cercando di fare dei videogiochi e quindi ho imparato a capire che cos'è un game designer che cos'è un graphic designer no? e quindi non so un designer insomma ho conosciuto tante piccole prime applicazioni e il mio ingresso in una scuola di design è stato un goffo tentativo di cercare di prendere una scuola che comunque si occupava di progettazione e cercare di piegarla verso il campo che mi interessava in quel momento che era principalmente design appunto di videogiochi e materiale interattivo quindi ecco però parte da un collettivo e io sono stato eletto nel mio ruolo di designer proprio da una persona ecco una delle persone più importanti sicuramente della mia vita è stato questo mio amico che si chiama Emanuele Sabetta che lui disse tu sarai il nostro designer di bordo e quindi mi sono accollato la responsabilità di dover progettare tutta una serie di cose di questi videogiochi che non siamo mai riusciti a finire quindi non sono mai riusciti ci abbiamo messo una vita ce l'abbiamo messa tutta per farlo ma poi abbiamo fallito poi ho provato variate volte di fare dei videogiochi ma non ce l'ho mai fatta se non invece in un'esperienza, altra esperienza collettiva che è stata quella di uno studio di design che si chiama prima Chimp, Chimpco e poi Studio Brutus in cui invece siamo riusciti a produrne poi dei videogiochi era un po' un prodotto collaterale del nostro studio noi ci occupavamo più che altro di comunicazione integrata quindi identità e siti web, video tutto quello che era diciamo all'interno di uno schermo, poco print francamente moltissimo video in ogni sua forma e lì anche si è creato un collettivo formidabile in cui la mia vita si è incrociata con quello di persone che tuttora io reputo il fondamento della mia visione della creatività in particolare non posso non menzionare Gianluca Abate artista peraltro straordinario, andatevi a cercare le sue cose pluripremiato video artista una qualità irraggiungibile francamente secondo me non se ne parla mai abbastanza veramente un gigante infatti sono lieto che si sia sciolto il nostro gruppo perché si è potuto esprimere finalmente in piena libertà riuscendo a portare a termine dei progetti che sono formidabili sicuramente Marcello Crescenzi che è stato anche tuo ospite che adesso si firma Rise Above con cui abbiamo cominciato questo percorso insieme poi lui si è separato un po' prima da noi ma comunque è stato un membro importantissimo di questo processo così come Mauro Staci Maurchi, mat64 programmatore della verve creativa inedita è una persona che mi ha dato la possibilità di capire che veramente lavorando con la programmazione ci si può sfocare in maniera estremamente creativa diciamo che la mia fisima dell'interazione fra scienza e creatività sicuramente nasce nel mio rapporto strettissimo con lui si può dire che Chimp e Brutus sono nati dalla nostra collaborazione iniziale perché noi ci siamo mossi inizialmente come duo e poi piano piano ci siamo tirati dentro collaboratori lui dalla parte del codice, Massimo Ronca ad esempio è stato un altro programmatore che ha lavorato con noi che è stato poi un socio fondatore di Brutus e io invece Gianluca Bate e appunto Marcello sono stati diciamo i miei acquisti sul mercato però ecco è stato veramente molto bello noi abbiamo cominciato prima come in realtà ora che ci penso ho saltato una fase fondamentale noi eravamo prima in uno studio che si chiamava Resonant faceva capo a un'etichetta discografica etichette discografiche che pure poi sono finite nella mia vita in centomila modi diversi prima appunto Resonant che ci ho aprì questa sub-label che era Resonant Interactive Interactive Design chiedo scusa era Read questa etichetta fondata da Francesco Fiore e avevamo peraltro lo studio insieme a DNA Concerti quindi era uno studio figo perché da una parte c'eravamo l'etichetta da un'altra parte si progettava dissonanze quindi insomma c'era tutta una serie di robe molto belle è veramente un momento breve e intensissimo e lì ho cominciato a fare i miei primi progetti di advergaming di design interattivo facevo ancora l'ISIA in quel momento infatti era un casino perché l'ISIA ha degli orari piuttosto un po' servizio militare lavoravo praticamente di notte o collegio sì sì esatto o un'interessa intensiva sembra tipo a un campo tipo di concentramento esatto a sette ore al giorno quindi io staccavo dall'ISIA andavo a studio lavoravo là fino alle undici e mezza mezzanotte poi tornavo a casa tornavo tre ore e la mattina boh mi restavo all'ISIA quindi insomma una roba impossibile però ha funzionato per un po' finché poi baudo gli attacchi di panico tutto aspetto vabbè quindi no la cosa vando alle ciance quindi dopo Resonant appunto c'è stato Brutus 5 e nel frattempo mentre quella cosa andava crescendo ci sono stati i primi contatti con i superamici che è un gruppo di illustratori fumettisti che mi hanno degnato anche loro della loro amicizia e collaborazione e quindi mi sono trovato poi sparato in questo e questo ah scusa dimenticavo un altro collettivo ancora si chiamava era è stato il primo in assoluto si chiamava di fumetto si chiamava cesap avevamo cercato di dargli un nome che suonasse male tipo imps o impdap e alla fine siamo usciti con questo cesap che era centro sperimentale arte pura ok comunque abbiamo fatto in realtà dei fumettini che si chiamavano lampi grevi ed eravamo io Lucio Villani Daniel Catalli Maria Chiara Di Giorgio Francesco Di Giorgio Adriano Ercolani Francesco Fava tutte persone che mi hanno sto sicuramente scordando qualcuno però che si offenderà a morte però non l'ho fatto apposta e e anche queste sono persone con cui ho ho mosso i primi passi no? a cui devo tantissimo quindi non finirei più ah poi vabbè scusa l'ultimo poi giuro se no poi dici basta questa domanda non andava fatta io ho avuto poi una serie di persone anche fuori diciamo dal mio specifico ambito operativo che però mi hanno in qualche modo dato la possibilità di esprimermi in maniera come dire appropriata nel mio campo in particolar modo non posso non citare Davide Lucchetti che adesso è il diciamo il Chief ok il CEO di Frame by Frame Italia che è una società che si occupa di post produzione video broadcast design VFX fanno un sacco di robe molto fighe e che nel 2003 ha pensato bene di darmi una stanza vuota all'interno di Frame by Frame e dire facci quello che vuoi portaci dentro chi vuoi e quindi 5 Brutus sono nati perché Frame by Frame ci ha dato uno spazio in cui poi effettivamente produrre le nostre cose e là dentro sono successi ulteriori incontri incredibili come ad esempio quello con Daniel Ravine di WDDG Kyoken che mi ha portato in un mercato completamente diverso che era quello internazionale statunitense dell'interaction design quindi regali del caso regali delle persone la mia vita io sono in balia del destino devo tutto agli altri non c'è una singola cosa che non mi piace mi piace senti sei tipo una vabbè oltre a rinnovare tipo la mia stima nei confronti della tua produzione artistica in generale ovviamente nel senso non saresti ospite di questa rubrica se non se non pensassi soltanto cose positive diciamo della tua produzione mi piace tantissimo che cioè il fatto che sei che operi in più settori devo dire una cosa allo stato attuale scusami faccio parte di un collettivo che si chiama Distant Future non mi accollo su questa cosa però c'è un altro collettivo si chiama Distant Future in cui faccio prettamente musica per rindere è successo anche quello vai prego e vedi ha maggior ragione nel senso se hai il cane che sta bagliando avrà sentito qualcosa se lo sentite è perché è un cane fa quello scusate la devo accarezzare altrimenti perché se no adesso ho iniziato a bagliare poi si rovina tipo si rovina la diretta no dicevo mi è sempre piaciuto il fatto che sei sempre stato attivo e prolifico in più campi nel senso ho avuto modo di ascoltare vedere leggere no tutto quello che cioè non tutto un bel po' di quello che hai prodotto e mi piace anche che oltre ad essere una persona tipo che produce qualcosa nel senso sei anche una persona che insegna no e e quindi nel senso per me tipo il livello di stima tipo aumenta perché per me la parte tipo relativa alla didattica è una componente secondo me abbastanza importante a me piace farlo semplicemente perché senza essere buddista ho sempre pensato che bisognasse tipo restituire tanto di quello che si era preso io sono sempre una persona abbastanza fortunata non li ho cercati ma li ho ricevuto tipo dell'ottimo mentorship da colleghi da quelli che poi sono diventati i colleghi più anziani di me e dato che l'ho ricevuta gratuitamente senza tipo e mi ha aiutato tanto ho sempre pensato che tipo insegnare potesse essere un modo per ribilanciare un pochino le cose vedo che lo fai anche tu e e mi interessa farti tipo questa domanda un paio di volte in due casi differenti con due persone differenti molto brave nei loro settori parlando di didattica loro sono uscite fuori tipo con una frase tipo un pochino tipo che mi ha un pochino spiazzato tipo che diceva tipo una roba del genere quando inizi tipo ad insegnare smetti di progettare tu in che cavolo di maniera te la gestisci sta cosa qui io sono sempre rimasto di merda perché sono delle persone che poi te lo dico tipo privatamente molto influenti in un programma tipo della progettazione italiana nel senso e se fosse se me l'avessero detto tipo delle persone un pochino tipo di cui non me ne frega niente probabilmente non me la serrei nemmeno ricordata di post uscita però questa cosa qui mi ha fatto pensare ho detto ma è vera sta cosa cioè quando una persona inizia tipo a riflettere su quello che deve insegnare a qualcun altro mette effettivamente tipo di non so di approcciarsi tipo al progetto in un'altra cioè nella maniera con cui si era approcciata fino a quel momento lì sai perché te la faccio anche questa domanda perché in questo periodo io sto più insegnando che lavorando per cui forse mi sto anche cagando un po' addosso ok 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 no 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 ok chiaro 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 ti rispondo vai vai tranquillo spero che sia la risposta che mi aspetta ma allora dunque facciamo una premessa la devo fare ok non mi piacciono le premesse non la devo fare la prima premessa è che ognuno vede l'insegnamento come gli pare ok ognuno vede la progettazione come gli pare c'è chi ne fa una questione etica chi ne fa una questione economica chi ne fa una questione poetica no quindi chi pensa che l'insegnamento sia debba essere no accompagnare per mano chi ti dice tana delle tigri no chi ti butta in mezzo la pugna ognuno c'è il suo modo ok di vedere le cose quindi capito questo e capito che probabilmente magari queste persone hanno una visione dell'insegnamento molto più complesso e serio di quello che c'ho io per cui dicono no se devi insegnare devi dedicare tutta la tua vita all'insegnamento e quindi poi la tua vita finisce e io quindi non posso che dire forse io sono un insegnante mediocre e quindi come posso giudicare un'affermazione del genere io quello che posso dirti provo a sparigliare provo a sparigliare perché veramente la mia visione è diversissima da questo punto di vista io ho la sensazione che e non lo faccio con un discorso maieutico tipo so di non sapere ok e quindi ascolto i miei studenti il punto fondamentale è che per me insegnare in una scuola figa come l'Isia significa almeno due cose ok uno accettare il fatto che io sto andando a insegnare in una scuola sostanzialmente di Jedi ok e che il più giovane ok in Isia ok ne sa 50 volte più di me quindi il fatto di mettere piede là dentro mi impone il fatto di dovermi assolutamente mettere all'altezza di quella posizione cioè io anche lì sono stato miracolato sono entrato in Isia e una volta che sono entrato e ho firmato un contratto insieme là dentro ho detto madonna dove mi sono infilato cioè nel senso è una roba come dire era veramente al di sopra di quello che io potessi immaginare in termini di qualità l'insegnamento in Isia era tanto che non ci mettevo piede l'ultima volta ce l'ho stato da studente e la qualità è altissima dell'insegnamento e quindi se posso dirti una cosa devo dire che la qualità del mio livello progettuale è salita quando sono entrato in Isia perché ho imparato tantissimo dal fatto di stare insieme a dei colleghi insegnanti che ne sanno a pacchi ok che sono brillanti geniali intelligentissimi e coltissimi e io posso solo che ascoltare quindi questa la prima cosa la seconda cosa fondamentale è questo tiscio che era ultimamente è che la nuova generazione di studenti non è nativa digitale con un computer è nativa digitale con intelligenza artificiale con le app con un mondo che generalmente quasi non passa più per un computer ok e questa roba qui da una parte mi fa sentire cioè io diciamo alle volte mi accorgo di trovare le soluzioni più cyberpunk di quelle che provocano i miei studenti perché ho un approccio un po' più radicale proprio perché vengo in realtà cioè non sono abituato a quel livello di omogenizzato ok con cui viene consegnata una funzione di un computer ai ragazzi di oggi però dall'altra parte mi rendo anche conto che la mia testa è piena di spazzatura inutile ormai cioè io veramente sono un relitto da questo punto di vista perché molte delle soluzioni che applico per risolvere dei problemi oggi hanno una come dire un'alternativa che è 10.000 volte più human readable del mio approccio che invece è proprio hardcore da quel punto di vista cioè si tratta sempre di entrare come dire di spezzare il problema in una forma a bassissimo livello ecco per usare un termine di programmazione perché invece i ragazzi di oggi sono proiettati verso un altro tipo di soluzioni no? e e io vado a imparare questa roba qua anche a scuola no? siccome sto in un bienio di specializzazione gli studenti che arrivano da me sono comunque persone che hanno fatto tre anni di un corso di altissima formazione ok? quindi io quando lavoro con loro sono in uno staff e quando facciamo questo staff non è detto che sia io a trovare la soluzione migliore poi magari io porto l'esperienza porto il metodo porto la cultura di certe cose ma per me lavorare con studenti giovani svegli che arrivano da un mondo che magari io non ho neanche visto arrivare per me è una risorsa infinita per crescere e per tenermi come dire allenato e soprattutto come dire compatibile ok? con quello che succede oggi quindi per me insegnare è un lusso perché è fantastico è bellissimo dal punto di vista umano c'è tutta una serie di cose meravigliose ma soprattutto è un campo di ricerca costante da cui nascono centinaia di interazioni culturali che altrimenti sarebbero proprio lontanissime dalle mie possibilità come individuo quindi no è il contrario nel senso per me è impensabile poi magari queste persone che ti hanno parlato sono dei grandi nomi magari hanno degli studi pieni zeppi di persone che lavorano per loro quindi non hanno bisogno in uno spazio come la scuola per trovare queste interazioni io magari col fatto che sono diventato dopo tantissimi anni di collettivi creativi diciamo sono diventato un po' più eremita no? da questo punto di vista magari ho bisogno di più della scuola per trovare ancora quella roba lì però che ti devo dire poi oltretutto un'altra roba che posso dirti fantastica è che fa cioè ci sono dei momenti in cui tu facendo un percorso molto solitario a un certo punto pensi di avere perso anche un po' di presa sul appunto sulla natura dei problemi che ci interessano come comunicatori no? sì sì però ecco qua mi levo un po' come dire mi anzi mi metto da solo una spilletta cosa che non faccio quasi mai cominciare a vedere i miei studenti che facendo tesoro no? di tutta una serie di cose cominciano a vincere premi internazionali quello è molto bello perché ti rendi conto del fatto che il percorso è giusto quindi è anche un modo di è una spia anche che quello che dici ha senso non sono proprio esattamente una serie di cose che ti racconti da solo per darti conforto capisci e niente non importa tipo so che dal tuo punto di vista ho bisogno ogni tanto di avere tipo questo genere di confronto anche perché ultimamente se prima tipo camminavi per i corridoi delle scuole tipo adesso non fai nemmeno più nemmeno più per cui sta diventando veramente questo è un momento difficile quando ti vengono dei dubbi tipo del genere è sempre un po' di non difficile trovare il confronto ti posso dire una cosa in più su questa cosa ci tengo a dirla allora io quando faccio lezioni in classe faccio lezioni frontali che sono una valanga di informazioni perché insegno una materia di cui non esistono libri di testo perché insegno motion graphics è anche ridicolo pensare di un libro di testo tipo di motion graphics ci sto pensando a fare un libro di testo perché secondo me ci sono gli estremi per poterlo fare ok e poi non so se sarà sbagliato oppure no però quello che posso dirti è che fino a quando questa cosa non succederà è sicuramente vero il fatto che i miei studenti vanno in difficoltà perché è una materia in cui si parla dal montaggio al fumetto ai principi dell'animazione ovviamente la teoria anche della comunicazione visiva applicata alla sequenza quindi la comunicazione come dire la conversione spazio-temporale a cui siamo soggetti graphic design ovviamente perché graphic design è un movimento generalmente motion graphics quindi la tipografia insomma c'è di tutto quindi sicuramente una materia tosta e per quanto il mio corso sia piuttosto lungo dobbiamo fare un bel concentrato no? quindi ogni tanto escono dalle mie lezioni che si guardano che cosa è successo dove sono finito e e quindi poi piano piano mi sono accorto che durante un paio di revisioni che abbiamo fatto di recente nel passaggio fra il periodo pre-pandemico e pandemia piena quindi lockdown facevamo le robe condividendoci lo schermo su Google Meet no? e a un certo punto mi sono accorto che tutti registravano le mie lezioni con una webcam ok? perché se le rivedevano poveracci era l'unico modo che avevano per avere un ovviamente io ho dovuto fare la parte di quello che va fuori di testa in certi versi però io ero sicuro che succedesse questa cosa qua e questo pone chiaramente ti pone in una posizione di terrore puro perché non devi dire mai una stupidaggine in un ambito questo è un problema non devi mai dire una stupidaggine in un campo di una materia tipo come dire analisi uno probabilmente è più facile essere attaccato in un libro di testo è difficile proprio dire una roba che è un'opinione passata per teoria o per tecnica in un campo artistico diciamo le prese di posizione un po' ci sono le volte che possono scappare anche ma anche inconsciamente nel senso che magari uno dice questa cosa si fa così non così lo dice con la massima onestà e magari esiste in un altro modo e non è affatto vero cioè i dogmi non esistono ok? però dall'altra parte certe prese di posizione possono sembrare no? o assurde o come dire anche banalmente vetuste ok? in alcuni casi o come dire non al passo con i tempi sta di fatto che quindi quest'anno ad esempio ho cominciato a lavorare tantissimo su delle video dispense che sto preparando per i miei studenti e questa roba di fare le video dispense che è una lezione frontale con te stesso è fighissima perché in qualche modo se già fare una lezione ti obbliga a studiare tantissimo perché non puoi andare lì improvvisare ovviamente ecco con la video dispensa sei al allo studio al quadrato perché proprio veramente devi essere impeccabile no? perché quella roba la possono rivedere cento volte no? devo dire che è veramente impegnativo veramente impegnativo e però sono grato del fatto che di aver passato questa fase del mio studio perché mi sta fortificando quindi è un motivo in più per farlo mi fa piacere sentirlo nel senso anch'io in realtà trovo beneficio dall'insegnare oltre che mi fa piacere come ti avevo detto nel senso è una cosa che mi mette di buon umore per quei trovo però come dicevi tu del beneficio dall'insegnare perché effettivamente insegnare ti porta tipo a dover strutturare tipo una lezione per strutturare una lezione devi devi studiare tanto e quello studiare cioè io mi sono ritrovato a comprendere tipo delle robe che lì per lì durante tipo i miei anni di esia non avevo capito le ho capite dopo per cui sono mi sono ritrovato molte cose e ho detto ah ecco quella cosa che non mi sto cercando di dirmi serviva tipo quella maturità certo comunque cambiando invece il discorso io sto facendo non so se l'hai vista sto facendo spassare tipo un pochino di immagini prese diciamo dal tuo portfolio sì tra l'altro da case machine questo è un test che hai disegnato tipo per vedere per studiare cos'è questo uno studio fondamentalmente sì diciamo che il mio impianto tecnico su case machine è uscito da un percorso di analisi che è durato chiaramente a spizzichi e bocconi momenti prima momenti dopo anni letteralmente perché non trovavo pace su come gestire una serie di robe del disegno e questo test che vedi ad esempio per dire è un test scartato cioè non è poi la tecnica che ho utilizzato in definitiva e questo studio è partito con un'analisi prima di tutto di come disegniamo quindi cercare di capire quali erano gli aspetti che mi andava di esaltare quali mi andava di abbandonare quali di migliorare drasticamente e siccome sono un amante delle tecniche ibride ho provato a capire come combinare il digitale il tradizionale il pittorico il grafico per capire diciamo qual era poi la soluzione migliore al fine sono arrivato a una buona soluzione credo però insomma ci è voluto tanto tempo per inquadrare bene la tecnica questo è uno dei disegni che ho fatto per vedere con mano effettivamente per toccare con mano scusami quali erano i risultati dei vari approcci sì Gaze Machine comunque per chi non lo sapesse è l'ultimo lavoro a cui stai appunto lavorando fumetto logicamente parlando sì con chi esce? con Bao Publishing con Bao Publishing con il quale avevi già fatto uscire Golem e forse anche Astrogram è il mio editore diciamo per le grafitte no è Bao figo no volevo chiederti io ormai ti seguo tipo su Twitch da un bel pezzo spesso tipo quando riesco tipo quando mi vedi loggato tipo è perché mi sono collegato tipo dal cellulare perché tu guardi attraverso l'app altrimenti vabbè totalmente dal browser senza log non l'ho mai fatto e vedo che stai immaginando tanto e che ti invito tra l'altro hai una costanza più incredibile poi ne parliamo però nello specifico diciamo di sì diciamo di sì diciamo di sì no è notevole comunque te lo dice una persona che riesce a fare tipo dei progetti tipo a concludere un progetto soltanto se in tre giorni riesce tipo a portarlo avanti e tirarlo perché se il progetto supera i tre giorni poi quel progetto non vedrà mai la fila ma i fumetti però sono proprio ti obbligano all'idea di dire una tipologia di progetto che io probabilmente non potrei mai approcciare e no mi chiedevo nel senso innanzitutto quando esce perché ormai vedendolo tipo crescere oltre tipo cioè vedendolo tipo costruirsi svilupparsi tutte le volte tipo c'è sempre tipo mi ritorna in mente tipo quella battuta di Aldo Giovanni Giacomo che diciamo che abbiamo visto piccolini così riferendosi tipo al cane che avevano messo sotto quindi sì quali sono si può le 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 21 quindi ci siamo nel senso quando ci hai lavorato quanto ci stai lavorando da quanto ci stai lavorando guarda l'idea è quella più di ragionare su quanto ci vorrò ancora lavorare nel senso che sai è un po' difficile valutare il tempo di lavorazione cioè ti posso dire che le tavole ho cominciato a designare a giugno ok a giugno ho cominciato a fare le tavole vere del fumetto quindi partire dai draft digitali che sono proprio degli sketch delle tavole per poi fare il draft vero draft digitale c'è la matita digitale poi la mia tecnica strana multipass di disegno che poi se vuoi dopo ti spiego e poi il colore digitale però ecco la le tavole ho cominciato a farle da giugno adesso sono a tavola 80 più 10 sono a tavola 90 e quindi comunque da giugno praticamente tu quindi hai mostrato tutto il processo su twitch sempre sì ho avuto un mese 20 giorni di stop un mese 20 giorni di stop io iniziavo ad accorgermi che stavi ho visto che stavi lavorando a queste tavole e appunto in quel periodo lì era stato sì fico fico sì sì non come si dice qual è il contrario di spoiler free spoiler fool è stato spoilerissimo a me degli spoiler non me ne frega nulla proprio nella vita e voglio che le persone siano educate a capire che questa roba di spoiler deve finire è una roba da ignoranti avere paura di spoiler basta cioè se uno ti racconta il finale 2001 mi stai nello spazio non è che non me lo vedo più cioè ti cambia qualcosa no perché lo devi vedere che è un capolavoro no? o no? certo il fatterello non è al centro delle opere interessanti mai quindi se è un problema lo spoiler lo dico l'opera non vale niente per me io non ci ho mai fatto un pensiero in realtà su questa cosa però non mi sento di contrariarti sinceramente per me il coma è importante il cosa non è importante ci sta no in realtà sto apprezzando veramente tanto anche se va bene non mi sono mai tipo approcciato tipo al disegno io utilizzo prevalentemente strumenti totalmente strumenti digitali e non ho le schizze che hai tu anche banalmente quelle tecniche proprio impugnare un pennello banalmente cioè l'ho fatto sempre con risultati tipo tendenti allo sceno per cui non è il mio non ho il potere nemmeno per poter commentare cioè molto bello in realtà io apprezzo tipo la condivisione in generale perché culturalmente mi piace tipo a me piace quando qualsiasi forma d'arte qualsiasi forma di cultura è condivisa ed è a disposizione di tutti ecco sì fare arte fare cultura e l'Italia mi ha sempre fatto cagare al cazzo cioè nel senso preferisco tipo fareci tipo cioè non guadagnarci niente e scambiare tipo due chiacchiere con te tipo nei limiti di quella che è la mia persona nei limiti di quella che è la tua persona e magari creare il minimo di consapevolezza in più intorno tipo al mettiere del fumettista o dell'illustrico visual designer così boom su youtube o su Twitch o su qualche altra qualsiasi altra piattaforma che non lo so chiudermi tipo ma sai perché non posso smentirti su questo perché io quello che so lo devo alla condivisione di altri cioè anche chi ha scritto cioè ma da quando studiamo algebra ok a quando studiamo la lingua italiana a quando impariamo una tecnica per disegnare o guardiamo ci fanno una lezione di musica che cos'è se non condivisione cioè nel senso la mia idea di mettermi su Twitch nasce proprio con l'idea di restituire restituire cioè io James Jean a un certo punto della sua vita ha postato su un forum i PSD dei suoi lavori ok ora io non ho in parti sapevo non voglio fare lo sborone però le sapevo le cose che avevo utilizzato là dentro non è che non le sapevo no però ho potuto trovare conferma del fatto che effettivamente siccome parliamo di 2003 quando l'ho fatto insomma vedere che il percorso che avevo scelto era in effettivamente quello lo faceva pure lui ok è una roba che mi ha fatto sentire parte di un discorso globale di integrazione del digitale nel disegno e vedere che tutta la gente in quel forum imparava per la prima volta come era fatto un'illustrazione grazie a fatto lui ha preso ed era già aveva vinto gli Eisner ok cioè nel senso era uno che volendo si poteva benissimo disinteressare del mondo assolutamente disinteressare del mondo è uno che probabilmente da quei PSD saranno nati un centinaio di illustratori professionisti io non lo metto in dubbio questo sono sicuro quindi il minimo che posso fare c'è della gente che mi dice ah ma no ma se fai così poi ti scoprono le tecniche ma che devo scoprire io ho rubato tutto a tutti per primo che favore se devo tenere nascosto delle cose cioè ci manca rubo una roba per poi tenerla nascosta così non me la rubano ma che persona spreggevole sono volevo farti una domanda riguardo tipo a una delle ultime interviste che ho visto che ho avuto modo di vedere tipo su youtube e quella tipo una chiacchierata parecchio interessante che hai fatto con i ragazzi del Mefu mi sono piaciuti alcune diciamo prese di posizione che hai fatto e una in particolare relativa tipo al lavoro gratuito e perché magari proprio tipo dato che eri in casa Mefu nel senso no qualcuno si sarebbe potuto aspettare tipo una critica sprissima tipo al lavoro gratuito invece tu hai fatto dei distingo e mi sono piaciuti e li hai anche rivendicati hai detto io mi cioè sono felice di aver fatto tipo del lavoro gratuito e e lo rivendico perché nel senso ha fatto il bene e questa cosa mi è piaciuta tanto perché ho rivisto diciamo in te la figura diciamo dell'artista barra adesso non so perché l'hai fatto però nel senso a me piace quella forma d'arte quella forma di progettazione più militante nel senso che credi in una causa e quindi decidi di spendersi e non so come la vedi da questo punto di vista nel senso se è per questo diciamo che l'hai fatto in generale e niente nel senso mi è piaciuto anche il fatto per esempio che hai parlato tipo di non che non è sempre necessario diciamo aiutizzare le parole bannare la visibilità come merce di scambio no? sì e io su questa cosa qui mi sono sempre fatto tantissime domande e non ho mai capito però qual è qual è il qual è lo spartiacqua spesso volentieri perché di pancia spesso volentieri tendo a dire eh no sto cazzo pagami per fare questa roba però il tuo discorso è stato illuminante in quel momento lì perché tu effettivamente avevi messo tipo dei paletti che manualmente nel senso mi hanno portato a cambiare un po' la mia idea mi è piaciuto anche molto quel discorso e qui invece voglio sapere che avevi accennato sul sul costo che dovresti tipo far pagare tipo ad un cliente per il tuo lavoro e facevi anche lì in quel caso dei distingo per quanto riguarda tipo l'ho ascoltata di sfuggita per cui me la sto riguardando malissimo però dicevi cose del genere che sì non lo so non ve l'ho detto ci siamo mi ha beccato a me dura tre ore al due perre tipo per poterla ascoltare tutta c'era questo passaggio dove tu dicevi io sono per dare tipo correttimi se sbaglio un valore tipo ad ingresso diciamo al mio lavoro e è un valore che non è relativo alla clientela ma è assoluto lì io vado un pochino in contraddizione per te con te nel senso che ho determinate clienti per cui decido di dare tipo un valore assoluto tipo al mio lavoro per cui se vuoi lavorare con me questa è la cifra che devi sborsare fotte seghe perché quella cifra lì è relativa a a quella che è la mia idea del tuo guadagno del tuo sfruttamento economico della mia opera e poi però faccio anche un ragionamento totalmente contrario quando si tratta per esempio di clienti molto più piccolini per cui dico va bene ma se proprio voglio lavorare con questa persona qui se proprio voglio lavorare tipo con la micro associazione tipo culturale che sta vicino a casa perché mi sta simpatica questi mi vogliono pagare e mi vogliono dare 200 euro ma io 200 euro in realtà tipo non copre nemmeno tipo la metà di quello o un quarto o un decimo di quello che è il lavoro ci sono dei casi in cui dico vabbè ma io devo ragionare anche sulla potenza di acquisto che potrebbe avere tipo quella persona lì adesso dicendo quella così è totalmente sbagliata però io mi ero fatto un ragionamento molto più profondo su questa faccenda no no volevo capire un attimino qual era il tuo punto di vista la prima cosa da capire secondo me su questa roba qui è che non esiste un criterio unico non esiste nel senso che in base cioè le situazioni impongono come dire soluzioni diverse questioni diverse impongono soluzioni diverse quindi è esattamente come dire si lavora a scambio non gratuitamente a scambio con la visibilità ci si può lavorare perché se lavori gratuitamente è gratuito e manco la visibilità per arrivare indietro ok gratis è gratis ok visibilità non è gratis però la visibilità come dicevo nella cosa di Mefu si misura quindi se io se tu mi dai 4 milioni di contatti garantiti del mio target ok e io dovessi comprare quei 4 milioni di contatti non mi basterebbero un sacco di soldi e quindi ok può essere che quella è una cosa che non mi posso permettere mi serve sì forse no se non mi serve non lo faccio se mi serve sì ho modo di accedere a quel a quel bene perché tecnicamente è proprio un bene ok senza pagare e mettendoci dentro solo il mio tempo why not ok quindi assolutamente sì quindi quello è un discorso però si misura la visibilità si misura cioè l'altro giorno mi ha contattato una rivista giapponese fighissima di design mi hanno detto ah possiamo prendere il tuo disegno lo postiamo e e e tu ci dai anche delle stampe in cambio noi facciamo il post è chiaro che quelli lì hanno meno follower di me cioè perché dovrei dargli delle stampe dargli il post c'è che ti sei in cula come si diceva scusate e e e va bene così cioè nel senso ciao basta ovvio che se mi contatta un un broadcaster nazionale gigantesco e mi dice guarda non abbiamo soldi per pagarti ma mettiamo il tuo prodotto in vendita con 60 milioni di impression contemporaneamente per il discorso del Presidente della Repubblica sì nel senso quella è visibilità che ha un peso talmente superiore a quello che posso spendere che lo faccio cioè nel senso ma vanno misurate le cose non si può ragionare ragionare per principio ok generalmente è la morte dell'intelligenza ok bisogna ragionare capendo effettivamente di volta in volta cosa sta succedendo e cioè cosa sta capitando il bar sotto casa mia appende un volantino con il mio sito web alla sua porta di sotto e vuole che gli progetto l'identità coordinata mi conviene? no un ristorante di un mio amico per dire si è fatto progettare l'identità coordinata e io lì adesso mangio gratis per sempre mi conviene? sì ok è uno scambio fichissimo oltretutto l'istituto è da paura e ci posso portare chi voglio ok è uno scambio bello cioè per me a me mi ha cambiato la vita in positivo quella cosa lì quindi è stato uno dei lavori più fruttuosi della mia vita che l'ho fatto senza guadagnare un euro per dire ora la visibilità se uno capisce esattamente cos'è la visibilità ovvero le impression ok tecnicamente impression possono essere convertite in un guadagno in un contatto nella vendita di un prodotto si comprano si pagano normalmente si pagano le agenzie di pubblicità pagano per quella roba lì ok quindi il mio lavoro vale di più o vale di meno di quell'impression magari è uno scambio vantaggiosissimo magari il pubblico però non è quello che mi interessa bisogna essere attenti dice ok ti vedono 4 milioni di persone completamente disinteressate al fumetto ok all'illustrazione o al videogioco o a quello che stai facendo 4 milioni di niente è peggio di 100 persone interessate ad esempio quindi bisogna sapere effettivamente cosa stai facendo quindi bisogna metterci la testa sulle cose non esistono dei criteri assoluti allo stesso modo il discorso che facevi sulla piccola associazione io ti faccio un altro punto ti do un altro punto di vista completamente radicale radicalmente diverso e cioè invece di fare i conti in tasca alla persona che ho davanti ragiono sul fatto di dire ok questa persona non ha abbastanza soldi per pagare il mio lavoro facciamo un esempio dopo il scontato abbiamo già superato una fase in cui ho provato a offrirgli un progetto che magari è più piccolo che quindi posso fare per quella cifra troviamo di accordarci in qualche modo con le risorse che abbiamo perché prima ci sono delle fasi per vedere se è possibile cioè non è che io qualunque cosa faccio o mi dai un sacco di soldi o niente ci sono pure delle cose molto facili che si fanno in pochissimo tempo e che magari costano anche molto poco no? cioè che non è una questione di tempo ma è una questione che sono proprio dei progetti semplici e che quindi si possono gestire all'interno di cifre più abbordabili ok? è chiaro che c'è un entry level sotto il quale è difficile scendere però c'è anche una fase in cui tu puoi decidere esattamente come cioè tu se vedi una cosa che ti piace per migliorarti la vita non li spendi i soldi cioè se vedi che ne so vai in un negozio ti compri una stampa meravigliosa e te la attacchi in casa perché ogni giorno che esco dalla mia stanza voglio vedere questa stampa bellissima e ti compri che ne so una bella roba di Munari ok? è 500 euro e te la attacchi in casa pa! cioè non tutti spenderebbero 500 euro per una stampa da mettere in casa è una cifra però ogni tanto lo fai perché dici caspita la voglio perché è un lusso che mi voglio prendere con me stesso ok? perché migliora la mia vita ok? ora per me lavorare e aiutare delle persone che fanno delle cose meravigliose e che sono squattrinate significa migliorare il mondo che ho attorno quindi è esattamente come comprarsi un bene di consumo cretino ok? è meglio investire denaro nel migliorare il mondo che hai attorno alla fine ti stai comprando un mondo più bello ok? quindi io francamente sono dell'idea che il lavoro gratuito può diventare anche quella cosa lì cioè rimane comunque a scambio perché io è vero che ti sto dando un lavoro che tu non potresti permetterti però lo sto facendo perché c'è un deal fra me e te c'è un patto che tu poi farai quello per cui come dire sei nato che è una cosa che a me serve perché il mondo che tu vuoi per la tua associazione è il mondo che voglio anch'io no? allora in quel caso è uno scambio che conviene più di qualunque assegno tu la posso assicurare perché sono certe cose che non hanno prezzo ok? che non si possono comprare quindi io la metterei così non la metterei di guardare in tasca alle persone ma ragionerei su guarderei la qualità della vita che ci circonda e dire posso alzare la qualità della mia vita facendo questo lavoro forse sì e lo fai ok sì torna no erano paranoie cioè paranoie pensieri che ho sempre fatto tipo perché io ho sviluppato diciamo la mia sono diventato un professionista all'interno di grandi città di grandi centri urbani per cui ho lavorato sempre tipo a Milano e per cui ero abituato tipo a chiedere determinate cifre e avere tipo un livello di accesso tipo al mio lavoro che era tipo di un certo livello però sono anche tipo pugliese e banalmente mi rattrista tipo infinitamente il fatto di non aver mai potuto tipo lavorare tipo con un'impresa anche quando ci ho trovato nel senso con un'impresa tipo della mia zona no tipo Salento uno perché ce ne sono pochissime nel senso non è che tipo il Salento è noto tipo nel mondo tipo territorio vastamente tipo industrializzato e due perché quando tipo trovi anche l'impresa se trovi quello che non è un terzista per qualcun altro non è detto che poi sia disposto magari a spendere tipo i soldi lì per cui il pensiero di dire ok forse devo ragionare anche in base al potere d'acquisto discorso che poi io non ho mai approfondito perché comunque ho continuato a lavorare a Milano e pace quando però sono venuto qui nelle Marche all'inizio tipo ero a Iesi e dicevo caspita interessante mi piacerebbe lavorare perché io ho sempre questa cazza di fissa a me piace lavorare con le persone del posto perché anche se tipo tutta la mia professione si basa su un tizio che negli Stati Uniti scopre il mio portfolio mi contatta e mi chiede di fare un'illustrazione per un articolo o per un'app o per una roba c'ho sempre invece tipo quella formamentis proprio da graphic designer tipo anni 60 70 italiano che deve lavorare con l'azienda del territorio cioè Mauro Bubbico tipo per fare ok che è scolpita dentro di me per cui quando ho provato tipo poi a lavorare tipo con le persone del posto incontravo tipo questo grandissimo gap gigantesco incolmabile che era proprio la richiesta tipo economica da parte mia e quindi lì la domanda tipo è stata anche quella ma forse devo essere io che propongo tipo prezzi in base al potere d'acquisto che c'è tipo in questa zona d'Italia ed era per questo niente era questo tipo il grandissimo dilemma il lavoro del design ti faccio un esempio a me è una una roba che mi ha tanto colpito da ragazzo era per dire come funzionava il sistema progettuale che c'era dietro ai progetti automobilistici di Giugiaro una roba che mi ha molto colpito è il fatto che lui creava le condizioni ricreava le condizioni perché potessero succedere determinate cose cioè non partiva con un progetto di un'automobile basta partiva con l'idea di dire ok creiamo un network di aziende che producono contemporaneamente una serie di prodotti in maniera tale che il prezzo sia bassi che sia possibile entrare in una collaborazione magari fra più paesi ragionava in grande per fare in maniera tale che poi tutte le cose succedessero in realtà c'era un'idea che era quella di dire dall'alternativa fare niente o fare in maniera tale che si crei un ecosistema sostenibile da un punto di vista industriale non necessariamente ambientale anzi quindi no dico l'idea è interessante molto interessante proprio perché ti dice se le condizioni non ci sono creale è ovvio che tu dici beh però non è proprio banale creare le condizioni per cui però il lavoro del designer è quello di fare il meglio che si può con la materia prima che hai cioè nel senso devi far fruttare quello che c'è e le grandi storie del design ti insegnano che poi alla fine generalmente quello che succede è questa cosa qua non lo so francamente non sto dicendo che hai fatto male il tuo lavoro ma ci mancherebbe no 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 perché magari sembra come dire l'avresti dovuto fare non è quello però però è così cioè bisogna fare in maniera tale che le condizioni piano piano si sviluppino io lì per lì ho risolto tipo facendo tipo la prima volta tipo cercando di abbassare il prezzo e la seconda volta non c'è stata perché ho detto vabbè la prima volta mi è abbassata continuerò tipo a lavorare cioè mi tolgo tipo sto sto desiderio di lavorare tipo con il locale e poi se poi non è mica infatti non è che è una missione che devi per forza svolgere nel senso per cui ho continuato a fare il mio tranquillamente no è che ogni tanto tipo mi pongo tipo certe domande soprattutto quando sono la prima esperienza tipo da un certo punto di vista certo comunque sto continuando tipo a mostrare i tuoi lavori e ho sempre tipo apprezzato tantissimo il tuo amore tipo per i grotesconi per me garrapanti nel senso incontri tipo una persona che gioisce tipo per le scelte io sono team elvedica cioè proprio quelli che dicono che l'elvedica è la morte e la creatività io li rispetto però non so io l'elvedica tipo utilizzato per bene a me mi piace come si dice tipo è una doma che ancora gliela molla secondo me per cui bisogna saperlo utilizzare con coscienza nel senso io non sono tipo uno di quelli che lo difende tipo a spada tratta ma nemmeno uno dei suoi peggiori detrattori certo è così tipo dei grotesconi in generale nel senso i grotesconi prefe sono anche uno di quelli che ha tipo il vizio cioè io non sono mai stato mega punk tipo nell'animo per cui compro le fonti penso un po' bene ce ne ho pochissime ma ce ne ho sono uno di quelli tipo che li compra anche di quelli groteschi però vedo che ci sono stielveticoni belli tipo chernari stretti che mi piacciono molto mi ricordano tipo i teatri cioè i teatri i poster il piccolo tipo a Milano e e poi c'è invece tipo questo carattere che utilizzi spesso che ho utilizzato anche per se ti lo trovo te lo faccio vedere tanto sto scorrendo sì sì dei lavori bellissimi ecco qui è uno stile bellissimo sì sì no è uno stile è un mio feticcio assoluto io ho soltanto un sacco di librini bellissimi con degli spesimi all'interno ma io non non ho una versione digitale no no ce l'ho ce l'ho io l'ho comprato ma la cosa molto bella è che ho avuto la possibilità di andare all'archivio tipografico di Torino dove ho conosciuto le persone meravigliose e ho avuto il lusso di toccare con mano dei caratteri mobili di Novarese di Eurostile microgram e mi sono fatto fare anche una piccola composizione che serve con con grande copidigia nel mio archivio e la cosa interessante è che ho comprato anche dei cataloghi che sono composti appunto con tutti i font di Novarese le font di Novarese e sono meravigliosi è un caratteri Eurostile per me è una delle robe proprio migliori che siano toccate al pianeta Terra in assoluto per me il futuro come poche cose sono mai successe nell'ambito della tipografia Io un paio di no due o tre anni fa tre anni fa sicuramente non due ho preso da uno slancio tipo incredibile ho preso una macchina sono andato tipo nei pressi tipo di Modena non vorrei dire tipo delle cretinate adesso geograficamente parlando e mi sono fatto tipo un regalo ho comprato 200 kg di caratteri mobili tipo del nebbiolo che conservo in studio colpi piccoli ovviamente e poi mi sono promesso che mi sarei regalato tipo un tirabozze di quelli piccolini per poter fare qualcosa non l'ho mai fatto mi ero anche promesso di mettermi lì tipo a pulirli tutti perché c'è veramente una valanga di micro punzoncini che vabbè no non l'ho mai fatto per il momento già ciò prima o poi tipo appena provo uno stagista tipo mi ci metterò lì comunque senza entrare nel vivo il tizio dell'archivio tipografico di Torino mi raccontava della storia della nebbiologa veramente disturbante pensare che sostanzialmente non c'è più cioè nel senso che non non ha un'eredità diretta sì esatto è assurda come cosa cioè se pensi che dall'altra parte del mondo c'hai Casio capito Toshiba che sono quella cosa lì e noi di chi è boh cioè è fantastico senti c'è una domanda che arriva dal pubblico che stavo per porti anch'io sì hai provato a disegnare caratteri tipografici allora disegnarli no però ne ho modificati tanti per per progettazioni di scritte marchi o anche semplicemente per fare dei subset di caratteri ho fatto una mezza bestemmia ad esempio c'ho un quello lo uso da quando sono ragazzo a un certo punto mi sono ci tengo a precisare per me l'avanguard è un carattere meraviglioso cioè lo specimen appeso lì non so se si vede nell'inquadratura quelle schettine blu dietro sono uno specimen completo di avant-garde in letterpress sempre stampato all'archivio tipografico di Torino però non ho mai potuto sopportare la R maiuscola aperta di avant-garde e quindi da lì mi sono fatto questa versione con la R chiusa che ovviamente poi non funziona più perché se la chiudi si creano delle spaziature diverse quindi ho dovuto modificare un po' tutto anche le P sono cambiate un po' e quindi ho questa versione cambiata di di avant-garde ma l'ho fatto svariate volte diciamo pure con il Vedica alle volte mi è capitato di dover dare una spianatina a un paio di correzioni ottiche magari per dei loghi per robe grandi che altrimenti non funzionavano magari portato completamente fuori scala certe correzioni semplicemente non funzionano più quindi sì piccole cose insomma cose di questo tipo aggiustamentini ma addirittura un disegno di un font no e mi piacerebbe molto farlo se avessi il tempo va detto che ultimamente io non so voi se state anche voi covando odio rabbia risentimento per questo studio meraviglioso che si chiama Schulz Graphic che pubblicano su Instagram di video incredibili manipolano i font con degli script di roba diciamo che chiamare responsivo mi sembra un po' riduttivo vorrei avere quella roba lì a casa mia mia ok poter creare tutti i font che vogliono nel mondo non ce l'ho e quindi diciamo che vivo nel risentimento bello aspetta ma stavo cercando su Schulz Graphic sono link stellari stellari su Instagram si si su Instagram su tutti i video di loro che manipolano i font con con un joypad della Playstation principalmente però ci sono delle robe proprio belle ma sai che prima li seguivo poi in un rap ah si 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 ok va bene ficata grazie per prego figurati venite unitevi a me rosicare tutto il giorno guardare quella roba lì non si può fare io ho scritto poi ti rispondo e dico noi siamo questa applicazione qua e non è vero ce l'ho scricata non è vero non è quella cioè non è quella cosa che usano loro quindi veramente un odio ciò nello riguardi e ammirazione alla scuola open source ho visto programmare cose del genere che comunque funzionano tranquillamente in questo chiarare diciamo cose per cui non credo nemmeno sia impossibile ora te lo dice una persona che in realtà ha fatto tipo turbopatical tipo al liceo tipo e poi bright line ok sì esatto ho imparato tipo a fare tipo a dire tipo ad una calcolatrice come fare tipo le addizioni e poi tipo ho smesso tipo di fare qualsiasi esperienza tipo di programmazione però mi è sembrato vederlo fare da con le altre persone preparatissime comunque no scherzo a parte io non ho altre domande e ti vorrei anche lasciare dato che sono praticamente le sette ti volevo però fare ovviamente dico tipo alle persone che ci stanno seguendo se qualcuno tipo se voglia fare una domanda tipo a Lorenzo c'è un minimo di tempo ancora per cui ti vedete e io ti penso in sovraimpressione a te invece Lorenzo mentre loro diamo il tempo magari di ragionare un attimo volevo fare la domanda diciamo conclusiva se hai appunto qualche contenuto che può essere tipo un album una canzone un video una serie un podcast una lettura da consigliarci così allora diciamo che sarà bastone e carota ok vi offro due opzioni in realtà sono due carote meravigliose di quelle che si mangia con la forchetta e il coltello uno dei due conigli di Usavic proprio la più succolenta che può venire in mente e Usavic se non avete mai visto un'altra serie della Madonna un'azione di Satoshi Tomiaka consigliatissima parla di due conigli chiusi in un gulag che poi finiscono in un casino però la cosa che è molto interessante di queste due proposte che sono completamente differenti sono uno un video che io porto nel cuore perché se tutti lo vedessero almeno una volta nella vita probabilmente non lo so a me mi ha aperto la testa il cuore e continuo a tornarci perché mi sembra impossibile la chiarezza di ragionamento di quella persona un video in cui Noam Chomsky risponde a una domanda si chiama il video si chiama What We Really Want sta su YouTube è facile da raggiungere cercate Noam Chomsky What We Really Want e lo trovate però forse Marco ci vede il link metterò il link proprio giù in descrizione adesso non posso tipo perfetto What We Really Want Noam Chomsky e la seconda cosa che vi consiglio invece questo proprio vogliatevi bene e guardate una delle serie animate più belle di tutti i tempi per quello che mi riguarda forse la più figa che sia mai uscita in assoluto è gratuita è su Vid che è questo canale meraviglioso dove si trova un sacco di roba di animazione giapponese soprattutto gratuita è scritto VVVVVid il nome del sito quindi andate su Vid cercate Kaiba di Yuasa che è un regista di animazione formidabile membro di studio 4C credo membro di studio 4C se tutte le sue cose sono animato su 4C autore di film fantastici come Mind Game film pazzesco però ecco vedetevi Kaiba di Yuasa perché è una roba fuori scala completamente un bellissimo carto animato a proposito di carto animato abbiamo una domanda dal pubblico Matteo Agostini dice vuoi sapere quali sono i tuoi tre film di animazione preferiti tre è una domanda interessante tre posso anche rilassarmi dicono sempre dimmi il tuo film preferito devi sceglierne uno è un po' tremenda esatto tre film di animazione preferiti allora il primo sicuramente Princess Mononoke Princess Mononoke è il mio film di animazione preferito senza troppi dubbi quindi sta lì è bene così poi probabilmente a questo punto vediamo se film valgono sia diciamo parliamo di lungometraggi non parliamo di cortometraggi perché se una cosa si incasinerebbe ulteriormente quindi Princess Mononoke poi cerco un attimo di non ripetermi eh non è esattamente un film di animazione nel senso proprio del termine però secondo me è la cosa che somiglia di più a un film d'animazione per certi versi diciamo non è proprio ecco il suo sto facendo una roba illegittima però io come film d'animazione sicuramente non vederei Tron che non è un vero e proprio film d'animazione un film Disney live action che però è stato realizzato con una tecnica che è assolutamente basata sui principi dell'animazione perché sostanzialmente è un film stampato su sello e ricolorato ritagliato a mano integrato con disegni sfondi e sequenze di animazione 3D vorrei farti una domanda velocissima sempre su Tron io ne conosco due fondamentalmente quello più recente e quello più vecchiotto ti riferisco a Tron del 1982 ok assolutamente Tron del 1982 e poi no Tron Legacy oltretutto faccio proprio la parte del boomer oltretutto ci tengo a precisare chiunque usa la parola boomer che non sia neanche lontanamente per scherzo a tutto il mio disprezzo no no sono serio marcio su questa cosa ok io sono per come dire quello è un termine razzista divisivo insopportabile quindi occhio a usarla questa roba con contro usate di voi stessi tanto tanto proprio per me esiste un muro che separa chi usa la parola e chi no un muro ovviamente puramente intellettuale perché alimenta le divisioni quella roba lì quindi proprio io sono per confrontarsi senza insultarsi se possibile quindi no comunque dicevo forse perché sono vecchio ci sto mettendo troppo a rispondere me ne rendo perfettamente conto e quindi dirò porco rosso basta vado dritto con porco rosso l'organico anzi no 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 la spada nella roccia quindi la spada nella roccia così è un po' cosmopolita come c'è sia America che Giappone insomma a chi non ti piace come non mi piace è un capolavoro assoluto cioè figurati però se ti devo dire le mie cose preferitissime come dire probabilmente Mononoke in cima Tron porco rosso Akira ex equo Akira perso posto dai ti dovrei anche dire Ghost in the Shell di Mamoruoshi allora cioè se volevo tirare un'interno non ne veniamo fuori devo scegliere devo scegliere libri per imparare a progettare per imparare a progettare a parte Falcinelli e vabbè altrimenti è impossibile per me quel libro lì è un punto di riferimento assoluto io sono cresciuto anche con con il libro di Michele Spera no? quello lì oddio sì l'ambicedario del grafico della Gangea Meditore non so la presenta con il mattone che è piccante eh quello lì è un libro che ho usato tanto però boh no io di di libri per aiutarti a progettare mi sembra anche molto bello leggere anche ricordarsi banale magari sto dicendo una cosa scontatissima a me piace tanto comprare libri di lavori di progettisti molto bravi che spiegano i loro progetti quindi non necessariamente magari una manualistica ad esempio una roba che a me mi ha cambiato sicuramente la testa è stato seguire tutte le opportunità che ci ha lasciato di analizzare il suo lavoro molto da vicino Sid Mead che è un concept artist designer eh formidabile per me il vertice assoluto proprio che non esiste un essere umano migliore ok per quello che mi riguarda nel nostro campo e Sid Mead ha lasciato una serie di eh robe incredibili fra le varie eh cose vi segnalo i DVD eh della Gnomon eh in cui lui disegna una roba che si chiama Hypervan che è questo mezzo futuristico e la cosa molto interessante di questo video è che lui spiega eh sono 4 DVD da 4 ore l'uno in cui uno fa lo sketch fa eh chiedo scusa fa il value sketch timeline sketch eh color values e poi dopo eh il definitivo a tempera ovviamente a un certo punto diventa un una sorta di tutorialone su come lui dipinge però la parte interessante è la parte precedente in cui lui ti racconta come progetta e una volta che capisci come progetta Sid Mead capisci che perché il design è una roba fenomenale meravigliosa incredibile e quindi consiglio quella roba lì se posso dirla tutta eh non ultimo tutti i suoi libri sono fantastici eh in particolare le edizioni sue quelle che uscivano per Oblagon che era la sua casa eh editrice eh un po' meglio delle cose che sono uscite adesso sono più compilative sono più dei raccolti bellissimi disegni ma è che lui scrive molto poco no? cioè non scrive perché sono raccolte fatte da editori che hanno fatto il meglio di Sid Mead interessanti ma non imbattibili un altro bellissimo video sempre di Sid Mead è contenuto nel suo libro che si chiama eh Crono Cronolog mi pare è disponibile su YouTube è un rip di un laser disc in cui lui disegna questa roba che si chiama Stargate se non sbaglio quindi se cercate Stargate Sid Mead vi esce questo video molto bello in cui lui racconta un po' di progetto non è eh bello come quello di Gnomon che purtroppo da trovare un po' un casino però prendetelo perché è fantastico eh ma è comunque un piccolo insight sul suo modo di progettare Sid Mead io lo adoro perché è un designer che è riuscito a comunicare eh il desiderio no eh la cultura l'amore la passione l'odio la guerra attraverso la realizzazione di mondi che sono il frutto di civiltà inventate questa roba qui per me è uno degli esercizi di design sistemico eh più riusciti che io ricordi francamente perché veramente il design di sistemi è applicato ai massimi livelli ok eh non ultimo con questa fortuna eh sfacciata di essere anche eh capitato diciamo questa forma di ragionamento così alta nel corpo del disegnatore più formidabile che sia mai esistito probabilmente negli ultimi cento anni insieme a Mobius e a pochissimi altri io credo quindi Sid Mead mi consiglio Sid Mead Fico va bene Lorenzo ti ringrazio per la chiacchierata io ringrazio per la pazienza per il concesso e spero che anche tipo chi ci ha seguito nel senso anzi sono sicuro che chi ci ha seguito tipo ha avuto modo di divertirsi eh penso ed essere non intrattenuto e brutto tipo come cosa è che non è di fare tipo non so i salti in banco però nel senso che sia stato per loro del quality time tipo interessante per cui va bene Lorenzo io spero di beccarti tipo prima o poi dal vivo non lo so se succederà mai se tipo il fatto che dalle tue parti ormai sto facendo promesse a gente che abita a Roma da diversi mesi ma sì poi passerò è impossibile non passare da Roma nel senso e quindi tipo mi piacerebbe venirti salutare di persona quando sarà possibile e nel frattempo però invece a parte ringraziarti ti auguro una buona serata e nulla l'auguro anche tipo alle persone che che ci stanno seguendo che ci hanno seguito fin qui come al solito io ricordo a tutti che in descrizione ho lasciato un po' di link tipo al portfolio di Lorenzo ai canali Twitch tipo a Youtube di Lorenzo a tutto quello che sono riuscito a rintracciare praticamente in rete tipo tutte le varie no non quelle musicali però potrei anche inserire anche quelle così se volete un pochino rimediare e farvi tipo una cultura un attimo più specifica su Lorenzo potete farlo tranquillamente ho messo anche in descrizione dei link ad alcuni dei suoi lavori tipo a fumetti per cui se volete acquistarli sapete sono in fondo in descrizione li trovate lì come al solito quello che tra l'altro abbiamo perché adesso con questo nickname non abbiamo Marcello Crescenzi ciao Marcello io scusate non vedo i commenti se non li postano quindi in tech team tipo tutti tipo ciao Marcello ci tengo a dire una cosa mi dimentico scusami la dico la infilo qua dentro e perdonami magari sono maleducato ci tengo a dire che io su Twitch ci sto sempre praticamente perché è il mio studio aperto cioè non è non ragiono tanto da streamer immaginatevi più come una camera di sorveglianza nel mio studio Twitch più o meno funziona che croce così una finestra su strada ok quindi mattina pomeriggio sera più o meno mi trovate sempre là quindi il link è particolarmente utile perché se volete pure farmi altre domande la sto è come la webcam nello studio di Segmeister praticamente esattamente o di Hi-Res anche l'hanno fatto esatto io devo dire soltanto oltre due cose la prima cosa è che tipo che questo video è stato realizzato grazie ai pressini infiniti che mi ha fatto tipo Flavio il presidente tipo Flavio Rosati tipo di autori di immagini che mi ha detto ma devi ti forse intervistare Roberto e io sì aspetta appena avrò qualcosa da chiedergli tipo fammi un attivino radunare due idee e e niente tipo quindi gli avevo promesso che l'avrei creditato e niente l'ho fatto e l'altra cosa è seguite il canale ragazzi che è sempre bello tipo sapere che seguite il canale poi pollicinate mettete like condividete commentate fatemi sapere cosa ne pensate e nulla vi saluto buona buona cena a tutti buona serata ciao buona serata grazie grazie